Bentorni a tutti ragazzi sul canale di Dante Assardor per un nuovo video video, questa volta un po' ma non dico tecnico ma particolare perché parleremo di questa questa è una bench, allora come sapete io collaboro con Noah da qualche tempo, da circa un paio d'anni, li aiutano allo sviluppo dei nuovi alimentatori partendo dal nuovo magma fino a tutti gli alimentatori che sono usciti ho sempre dato il mio contributo cercando di aiutarli e loro mi hanno sempre aiutato quando hanno avuto bisogno e soprattutto hanno seguito sempre i miei consigli, di fatto partendo dal 650 watt al 750 all'850 hanno fatto tutti ottimi prodotti veramente arrivando fino al livello di alta qualità senza mai fare una castroneria, cosa che magari sarebbe gradita anche dagli altri produttori italiani, per ora penso che in Italia come alta qualità abbiamo solo Noah e E-Tech praticamente. Comunque, Noah mi ha contattato e mi ha detto se era possibile fare una piccola bench per poter testare gli alimentatori perché spesso mi mandano cose da testare per vedere se vanno comunque anche come sono e mi farebbe piacere anche poter testare sia le cose che gli ritornano in garanzia che tutto il resto, cosa da non poco per un'azienda perché non molti lo fanno. Sicché mi sono messo all'opera e ho fatto questa bench che vedete dietro. Questa bench che vedete dietro che è praticamente la bench compatta più completa penso che ci sia oggi in tutto il mondo perché non penso che nessuno abbia mai creato una bench portatile compatta, comprensiva di voltmetri carichi, oscilloscopio e wattmetro tutto in uno. L'andiamo a vedere e ne approfittiamo per testare un alimentatore particolare, un alimentatore che mi ha mandato un amico dei gruppi Telegram, Gioele, un super flower 550 watt per vedere se col tempo avesse perso comunque qualità. Quindi adesso praticamente la bench la possiamo provare anche sopra il mio tavolo anche qui volendo perché praticamente ha solamente bisogno di un'alimentazione cinque volte che possiamo dare addirittura con un power bank all'oscilloscopio così da non avere proprio il minimo ingresso drippol se non quello dell'alimentatore. Andiamo a vedere un attimo com'è fatta perché mi fa molto piacere farvela vedere sia all'interno che all'esterno. Allora questa è la bench, non è che l'abbia rifinita poi così tanto perché comunque la parte che vediamo esterna come questa è comunque sempre in legno. Ho cercato di fare solo una bella visuale della parte superiore. Abbiamo 10 carichi da 120 watt per la 12 volt per un totale di 1200 watt, 50 watt per la 3,3 e 50 watt per la 5 volte. Le sonde dell'oscilloscopio selezionabili, una alla volta quindi 3,3 5 volte o 12 volte, le tensioni per la più 5 USB 3,3 5 volte 12, il mini oscilloscopio digitale e il wattmetro. Al suo interno ovviamente troviamo i classici cavi, ci sono tutte le varie resistenze, le sonde Q17 di 4 vento e le resistenze sono tutte dissipate sia con una piastra d'alluminio sotto che non tocca il ferro per evitare che vada a fuoco, separata con i separatori delle vite da 8 mm, pafta termica e sopra per ogni resistenza 3 dissipatori che vengono per affreddate da 4 ventole da 120 mm. Il filtraggio per il ripple è affidato da un condensatore da 0,1 microfarad ceramico e in parallelo a un 10 microfarad elettrolitico come da specifica. per quello che riguarda lo oscilloscopio è praticamente sufficiente collegarci un power bank per alimentarlo, così da avere veramente zero ripple, cioè non abbiamo nulla e è sicuro. Per quello che riguarda le possibilità di connessione la bench è studiata per essere aggiornata, abbiamo il 24 pin ATX con l'accensione, 1 e 2 8 pin per la GPU, 1 e 2 6 pin per la GPU, 1 8 pin per la CPU e un ATX 3.0 PCI Express 5.0, così da poter testare anche gli alimentatori PCI Express 5.0. Adesso ci andremo a collegare il super flower, che eccolo qua, questo è un super flower, per l'esattezza è un super flower 550 watt 80 plus platinum. Allora abbiamo collegato il nostro super flower che è lì, ora lo accendiamo e ci avviciniamo per vedere meglio tutto. Allora, mettiamoci in modo che vediamo tutte le tensioni, caricandola a 5 volt, comunque scendono di veramente a poco, 5 volt 3,3 la potenza, ve la farò vedere che la leggo qua, poi ve la dirò. Eccola qua, per ora è 93 watt. Il divisore è 10 millivolt. Allora, quindi dobbiamo questa parte, adesso arriviamo subito a 3 quarti di carico, 410 watt. Un ripple che se lo blocchiamo possiamo andare a leggere quella che è la WPP, che è 30 millivolt di WPP, bloccandolo ci dà anche il valore del picco minimo e picco massimo. Quindi abbiamo manco il tribolà a avvicinarci. Andando al carico massimo, così siamo a 600 watt, blocchiamo e abbiamo una WPP sempre di 35 millivolt, infatti lui ci dà 30. Sicuramente andando ad aggiungere un altro carico per avvicinarci all'uscita di quella che è la potenza massima dell'alimentatore, bloccandolo leggeremo 0,4, quindi 40 millivolt di ripple, che alla fine per un super flower va benissimo. Siamo a 570 watt, vediamo quando va in protezione, 7,49, 8,03, 8,50, ok dopo 8,50 si spegne. Beh è un 550, 8,50 è un valore che è un pochino fuori specifica, ma come tutti gli alimentatori. Non abbiamo visto, praticamente, non abbiamo visto le RAI minori, la 5 volt che ha un ripple inesistente sarà di 1 millivolt 1,2, e la 3,3 che anche applicandogli in carico comunque arriva difficilmente a 3 millivolt, infatti ci dà 0 come valore. Per esempio, quello che riguarda la 5 volt è uguale, praticamente invisibile, assolutamente invisibile. Devo dire che mi dispiace quasi darla via, perché è veramente fica. È fica, è comoda, si può portare dappertutto e non è detto che non ne farò un'altra per me così, perché 1200 watt sono veramente comodi. Se facciamo conto che noi con 6 carichi dei 12 che abbiamo facciamo 650 watt, vuol dire che praticamente questa arriva a 1300 watt. Ah no, scusate, che 6? Che cazzata ha detto? 5. 5, facciamo 527 watt, quindi arriva circa a 1600, a 1100 watt. Avete detto 1200, forse ho esagerato, perché sono circa 106-110 watt a carico. Comunque, devo dire che è veramente bella comoda, poi è compatibile anche con la TX 3.0, il che è veramente qualcosa di comodo anche per i nuovi alimentatori, cosa che anche la mia ha questo upgrade oramai e è così. Allora, spero che la Bench vi sia piaciuta e che piaccia anche a Noah, ma penso che gli piacerà. Penso che qui ci proveremo anche l'ultimo alimentatore di Big White prima di mandargli, perché appunto è 1200 watt, con questa arriviamo a 1200, quindi proprio perfetto. Poi abbiamo il test dei transienti, quindi potremmo provarlo anche qui. E ragazzi, questo è tutto, spero di tornare presto su Twitch, ma come vedete questa ci ho messo un mese per farla, dovevo farla in due settimane, ma sto andando praticamente in giro ovunque per lavoro, quindi il tempo che ho è veramente poco e mi scuso se non riesco a fornirvi dei video settimanalmente, ma col nuovo lavoro è veramente difficile. Ragazzi, ci vediamo alla prossima con Dante Sardor, non dimenticatevi di lasciare un like, di condividere, di accendere la campanellina e di iscrivervi ai miei social Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo alla prossima con Dante Sardor, ciao ciao!